connessione e son partito e vedi un po' è partita bene bene bravi tutti belli tutti bravi ciao siamo di nuovo con i termosifoni è stato bello è durata tanto ciao buon divertimento salutami tutti abbiamo abbastanza per fare siamo anche di bimbo siamo io moro liezer carizzo e il corvo non c'è chi c'era luke ci ciucciamo luke ce lo ciucciamo proprio così è schifo io voglio ciucciarmi tutto luke mi spiace luke ormai ti tocca devo rimpicciolire lui io devo aprire la bocca tanto come funziona non so non so se essere felice che mi ciucciate o disgustato dipende luke da che parte non so se essere felice che non mi carica la tua chat o essere disgustato non so mi stanno arrivando un sacco di commenti del cazzo su youtube e quindi fortunatamente questo non succede ultimamente più del solito ciao gabriel ciao grande ti hanno tolto il goldone gabriel sono dispiaciuto ti è sparito era goldone io non lo vedo più l'hanno sgoldonato che la cosa bella è che gliel'hanno dato prima di fare un anno e adesso non ce l'ha più si non ha più la sub buonasera buonasera a tutti buonasera buonasera come state come andate a un avviso per i sub alla fine di questa live se me lo ricordo quindi molto probabilmente no manderò la mail a tutti con lo spoiler del della guida in cucina nerd che uscirà lunedì quindi avete quasi una settimana di anticipo sui poveri pezzenti merda oggi era mercoledì sì ciao va bene mi sono dimenticato di chiedere al signor rendire nna per lo schermo e vabbè ormai ieri sera mio padre camomista si è innamorato di te e mi son perso e sta seguendo il tuo canale su youtube sono contento domani per quanto starai in live e non lo so eh sì e domani devo metterla sveglia gatto se ti vuoi svegliare per tempo sì noi partiamo alle 10 la sveglia per giocare alle 10 ma luna già finito e madonna è tre ore bisogna vedere conta conta comunque gli ezer che devo recuperare tutte le fiasche quindi sarà un po' una rottura di cacchio non sarà lunga la faccenda ma in realtà scusa non hai ricetto non ha miliardi di frammenti che non puoi non puoi non puoi darli ma le fiasche sono una strada principale di soldi non è vero no non è vero no ciao va bene morenix vedrai lo spoiler questa è casa mia chi l'è entera and dreams a twitch si è fatto la super vedere la guida in cucina dica la verità lo ammetta a me non l'hai passata la guida in cucina l'abbiamo guardato tutti assieme prima ma io sono andato a fare la spesa io ho fatto la guida in cucina vera sono la guida in cucina oggi ho fatto questo alle 11 sono andato a fare la spesa ci ho messo mezz'ora andare e tornare perché sono andato in un supermercato distante per fare un po di movimento a loro sono i miei fan molto apprezzanti sono tornato a casa ho registrato la guida in cucina ho mangiato finito alle 3 infatti non ho visto carina che guidava col volante alle 3 perché no e quindi non ti ho visto perché io non ti guardo mai vabbè alle 3 poi ho montato vabbè italian cadrega va bene grazie mille anche lei il signor sedia italiana molto solido molto voglio un'anatra vegana ah sì mi ricordo sei quello biondo che ce la faccia da firma ed ecco il goldone vero grazie gabriel e vai adesso è diventato goldone per davvero per su sé ho montato tutto il pomeriggio almeno due ore di montaggio ci sono stato perché ho fatto un sacco di clip campi contro campi ho registrato la voce voice over sapete quanto è lungo il video quattro minuti cazzo adesso capisci perché ci vogliono due anni per fare un film perché adesso devi andare a far la spesa con la gopro casino no 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 volevo riprendermi con la gopro mentre stavo facendo la spesa ma mi vergognavo tantissimo allora non ho fatto niente ma fallo dalla pappagorgia come facciamo tutti cosa ti inclini all'ingiù e via e ho capito cosa vedono scusa tu hai usato il carrello no ah peccato ho comprato quattro cose hai preso il il cestello il cestello sì lo potevo lasciare con la mano con cui tieni il cestello e tieni con le due dita la gopro la vacca eh l'ho già fatto ah sì è stato sì a te tua mamma ti dà la lista come i decerebrati di merda come me no te la dà la lista dalle cose da comprare me le dice a voce io me le segno di nascosto però faccio finta di tenermele a mente e la lista come te la tieni sul telefono stasso coglione non ho capito devo sprecare carta e tu fai morire gli alberi e manco usi la carta gli alberi muoiono per i fatti loro almeno non mi muoiono in casa scusa ho capito questo qui ah questo è un coglione allora grande evitatemi devo entrare ancora nel minigioco ma la smetti di giocare tutti a pokemon e giocate ad altro io non lo sto facendo io rispetto la tua livegat rispetto la tua persona bravissimo che rimasto ci si può giocare col volante a cosa a pokemon a pokemon col volante ma volendo sì perché c'ha i tasti ah sì è come giocare con joy tra l'altro hai trovato un ottimo prezzo non so se l'hai detto in live 45 sì lo sapevo io mi hanno dato la foto mi hai anche chiesto se andava sul pc ti ho risposto sì ma tu chiedi di cosa hai il gatto carino è la mattina che c'è qui c'è nessuno in scimmio ti sveglia alle 9 del mattino ti chiedo te sera tutti vogliono sapere se sono piaciuti gli animali impotenti dove toccarli per eccitarli mi piaciuto moltissimo anche a me molto bello gli altri non l'hanno visto? oh sì ho detto anche a me ah non ho sentito scusami si era spento di male perché c'è un testa di canza io ti uccido tutti moro stragi sì sì è un casino perché tutti i suoi mi è venuto voglio mangiarmi un toast è che in america si dice parents ah sì mi ricordo sei quello biondo che ce la faccia da perla e in singles è fatto anche tre mesi di sub bravissimo ma arriva subito il signor non è insignia non è insignia questa è casalea non fai bene è vero è vero hai ragione non se lo merito grazie mille anche il signor Tobaioli ma che casino me è però eh quello lì glielo dico sempre anche io comunque non è merito Lisa niente va bene grazie Tobialori ma scusa ma Whiskash non è cibo? no è Whiskash 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 ma guardate che nel video dei termosifoni non si vedeva il mio punto di vista che entrambe le volte sti deficienti si sono alzati mentre stavo già sparando all'obiettivo e sono morti ok? che dopo pare a parte che no una mi hai lanciato l'altra c'è invocata e mi hai ucciso dietro la parete eh quello è andato a sfiga cioè non è che ci sto sentendo che stai giocando ai pokemon anziché accettare ma stavo accettato io cosa vuoi? adesso ma c'è fatto come fai ma vuole? cosa vuole? sta chiudendo? no perché ti sento? eh ma ancora dobbiamo partire fammi finire questa battaglia con il nuotatore pompato va bene manca Luco lo rinvito però a Eleinghi con quali riflessi l'ho ucciso? c'ho dei riflessi da faina che uccido tutti al primo colpo bravissimo compresi i miei compagni tutto tu arrivi e muoiono tu mi sparo anche un po' sui piedi perché li vedo con la coda e l'occhio finalmente serata libera dallo studio non esiste modo migliore per spendere la che è quello di guardare le sue live ah ma grazie corvo guarda che è appena sbarcato dagli un po' di tregua eccolo multigiocazio libera moro adesso te lo rompo adesso puoi farlo come su cos'era? su Breaking Bad che spezzavano i telefoni in una maniera sbagliatissima non mi ricordo c'era un telefilm in cui per nascondere i telefoni quelli che avevano comprato usa e getta per fare in modo che non venissero i tracciati li rompevano no? ah no su Breaking Bad su Breaking Bad spezzano via lo schermo e ho capito la sim nel micro ah no quello lì era il robot che metteva la sim nel micro no ma non è che spezza i cellulari e toglie la batteria in quel modo cioè spezza il cellulare e toglie la batteria per non essere tracciato no toglie via semplicemente lo schermo e il resto del telefono rimane attivo cioè se tu se tu hai il telefono a conchiglia no da una parte ci sono i tasti con la batteria la sim e tutto quanto dall'altra c'è lo schermo se tu spezzi lo schermo va via lo schermo eh ma non è che lo rompono perché magari il gps del satellite si spegne se spacchi il cellulare in teoria dovresti far fuori la sim come appunto su Mr. Robot mi sembra una cosa un po' strana che che facendo così disabiliti completamente il telefono dovresti togliere la batteria e togliere la sim in realtà basterebbe togliere la batteria perché senza batteria è un è un sasso esatto però con la sim comunque possono recuperare dei dati e quindi è Luke che deve formattare adesso non ci sono riuscito guarda troviamo il contatore a volte facevano vedere che toglievano proprio anche la batteria e beh come do oddio cosa succede ho sentito ho sentito dove sono sono sotto cioè sono nel piano terra ottimo ottimo non taggateli più no 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 vorrei mettermi mi ho taggati mi ho taggati di più mi ha visto mi ha visto mi ha visto e mi ha visto bravissimo moro stai fermo lì stai fermo lì non mi vedono mai cos'era non la strega come ci siano i mister robot bisogna mettere nel microonde si va bene non c'è bisogno guarda adesso non lo taggo ah ma ho sgabato basta non fare così illegali non serve mettere la roba nel microonde naturalmente infatti non vedo non vedo ma dove siamo andiamo su andiamo non siamo giusti di qua liezer però stato individuato dove sono le telecamere ma dove cazzo sono le telecamere qui nel giappone antico vai moro 3 2 1 guardavo dove sono le telecamere mi avete visto in faccia che bello che sono no guardami io allora facciamo così facciamo casino noi dai è moro sono qui liezer no no sono di qua ah ho capito dove sono strano mi aspettavo una reazione collaterale ma entra gatto sono dentro ah no sono in una stanza aspetta aspetta ne metto una le granate da qui moro aspetta bravissimo ho ferito uno che paura bravissimo cioè questo massacro ah sono dentro qui sono loro vieni moro entriamo da qua sei pronto ah io sono morto Karim stai tranquillo credo che sia morto moro da dentro mi ha ucciso probabile ma l'ho crivellato e non è morto la madonna la puttana chi è stato di voi è stato io mi ha donazzato signor barza leggo tra un attimo che siamo in una scena un po' gatto tu guarda di là guarda di là guarda di là guardiamo dalla stessa parte quindi e no devo essere individuato ma non vedo le telecamere moro guarda un attimo me che merda lo c'è con uno di vita sono rimasto con uno di vita aiuto niente va bene lo faccio subito buonasera signor gatto dono per ringraziare da qui in poi potessi non leggere va bene però io leggo una nota dove sono Karim dimmi dove sono eh sono nella stanza sono nella stanza del eh sono stato individuato ma senza problema signor barza scienza problema che mamma mia mi ha disattivato la granata che schifo ho fatto io qui c'è il filo ma che palle qui a sinistra nelle scale c'è uno sopra si è sulle scale sopra si occhio invece tu yuk guarda dentro la stanza c'è una trappola la madonna yuk cos'è successo non ti ho nemmeno non ti ho visto dopo chadda boh non ho niente da dire se il gatto è bravo mi fa ridere le dono questa pecunia va bene grazie mille è la madonna bravo mica tanto ho fatto una morte un po' del cazzo qui ma dai ok quasi uso il fucile a sto giro sceliete sceliete ho scelto io il castello ora scelgo il tuo il nostro relativo ten castles in the sand mi piace il doc che va in giro con i guanti in lattice ma non deve più utilizzare nessuno perchè deve sparare addosso alle persone comunque infatti che tiene la pistola no difendete la stanza dobbiamo proteggere il contenitore di bioristio ok ma c'ho il pompo io e giubbotti posso fare ottimo bravo dacci il giubbotto che lo può chiudere qui il bioristio io cosa c'ho su non c'ho il pompo io sto fuori ok sono stati individuati chi sta fuori chi sta dentro chi sta fuori chi sta dentro karim c'hai un no lizard sotto i piedi bastardo ok chiudo dentro bravo io sto sopra mi metto ma col pompa ho sparato sei scemo siamo a 5 secondi ma io voglio entrare vai veloce di qua veloce moro veloce io sono sopra le scale ok sono dentro ok ok è andato qua vicino a mezzo dove è esploso è sopra sono qua vicino a me posizionamento tappeto non penso che siano qua dietro la porta Karim sono lì sopra mi sa hanno sfondato sotto da me no non è vero ucciso ho visto i piedini li ho visti sì anche io li ho visti i piedi eh aspetta che se tu camminare da di qua adesso no beh non c'era era chiuso merda dentro da noi Luke come dentro da voi il gatto è solo indietro da voi sì c'è la finestra qui è da me la finestra fuori moro dietro di te è da me eh Luke è shottato malissimo l'anno la vedo male qui perché ci sono dei buchi ma com'è possibile che mi ha ucciso però l'ho buttato giù lo so oh ci hanno sfondato lì eh ci hanno sfondato da me porca troia stavo per ammazzare di nuovo l'armatura l'ho visto è passato è da fuori ancora va vai a cagare aspetta vi controllo dalle telecamere eh dammi un feed perché io mi sa che sono eh non c'è nessuno perfetto porca troia un altro vaso che stavo per uccidere ah gatto e dove abbiamo ucciso quell'altro ce ne sono due ok è uno con l'armatura però aspetta che ne sento ho sentito da camminare di qua è qui il gatto porca troia merda che male eh ho mirato sto orto ah cazzo vabbè l'ho tolto un po' di vita almeno l'ho visto l'ho buttato giù è morto quello fuori da me eh allora ce n'è uno sotto con lo scudo ma come mi ha sparato un colpo in ah no è l'altro cazzo ero convinto che mi rimancasse solo uno merda eccolo qua eh è qui da me è qui da me moro occhio dietro anche ma sono solo io sono? no portami in onda stanno entrati da sfiduole barri moro da davanti e da dietro sono col pompo dietro di te anche non hai granate? no beh allora proteggete il contenitore di più a rischio a destra a destra a destra ma non l'hai visto? non l'hai visto? cazzo l'hai anche per un secondo mirato sai? non lo sai perché? perché lì da me c'è il fumo ah merda infatti vedi ti è rigirato verso di lui ma tanto mi sa che non gli faceva niente col pompo sto veramente per sciottare un vaso quel prodigy sta facendo una strage si è stati uccisi tutti da uno eh sì otto kill eh sì minchia otto kill è un mago ma scusa perché a me ha dato un assist? ah no beh giusto no l'ho ucciso no l'ho ucciso io ah te lo butti a terra non l'ho ucciso che l'ho visto i piedi? ah per vedere l'ho ucciso io l'ho dato 125 ok troviamo il contenitore del bridge qua hanno già sparato si è trovato ottimo lavoro contenitore di più mazza ma c'ha lo guardavo dal corridoio ma non me lo taggava ho dovuto proprio andare a sbatterci contro come mai chi è in doccia con me Eliezer? ah sono morto siamo in tanti stasera oh 1400 quanti? 1400 eh la madonna è perché il rainbow six tira è vero tira un pelo di fita ho fatto anche il titolo della live con un po' clickbait scusa hai messo ho scritto boom 6 volte allora si lo guardavo anche dall'estero eh tutto ha sgammato mi ha sgammato visto che era tutto inclinato bastardo questa è casa mia guarda sopra entriamo questa alle fuma benvenuto nel clan da sopra e va a fan clan volevo dire abbiamo visto un film del van ma qui ma vuoi sorridere che ti faccio una foto io ti sparo altro che la foto gatto guarda la finestra non sorridere spaccami soltanto ma merda eh non posso stanno sparando che rimuo oddio ma ho visto ma ho visto ma ho visto merda che paura dove è andato è nella finestra nella finestra ma come mi hanno preso però c'ha detto un muro sei volo oh merda ce n'era un altro nell'altra stanza sta morendo questo qui vabbè ma minchia l'ho ucciso no no l'ho ucciso porca troia allora muori eh che cazzo ma che cavolo c'ho il vetro rotto qui adesso ma porca miseria eh sono morto merda e non si è fatto un cazzo ma mi sa che il flash e guarda anche adesso no è durato un cazzo è durato ho visto dalla kill cam eh di un ormai ma che cazzo era non lo prendo più il blitz non flasho mai bene vabbè è veramente sputato e sono morto è il pistolino mi danno quando uso lo scudo no ma cambiamolo che ok ma così sicuro così mica è code ma c'è anche l'arma di black ops 3 cos'è cioè ci stava che la pistolina non lo shottasse ma c'è ive le skin di merda c'è il flash almeno doveva rincoglionirlo un figa cos'è un minimo un filo minimo ricambiamo l'obb ah è stato animato posso rimanere dentro posso rimanere qui va bene eh sì la vediamo abbandonata buono ah sì mi ricordo sei quello bianca che c'è la faccia da pirla salve gattaus eh sì però stava parlando il bot allora ero zitto va bene va bene eh non mi lascia il tempo grazie mille signor Proxior per questi due mesi passati in nostra compagnia sì sì l'hanno rianimato ok no vabbè però comunque non non l'han flashato porca miseria titone no non ha citato semplicemente fondato è che quando vedono che noi non siamo bravissimi ci si buttano pesce ci massacrano è normale eh però ripeto stiamo sempre migliorando rispetto alle prime volte che mamma mia no in realtà giocavamo all'inizio vincevamo almeno una sì una no una sì una no adesso le perdiamo quasi tutte ma tu però con più coscienza di cause no 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 perché sono cambiati i livelli e beh sì ma no ma poi sai prima noi non barricavamo neanche una parete non facevamo un cazzo le prime partite le asfaltavamo appunto sarà per i livelli ma anche perché cioè noi non facevamo metà delle cose che dovevamo fare adesso che ma come noobs ma anche lei qui gatto cosa eh cosa c'è cosa vuoi provate anche voi ad andare alla code eh insomma e io sono andato c'era uno da tutta l'altra parte ma non ho capito ce l'aveva con noi prima il no credo con gli altri ah perché ci sta conversando ma me la son persa giustamente gli ha detto no gli ha scritto your sister work in traffic e lui no ed ed auke sorry non posso lo sapere anch'io sono in my live si difendiamo la panna è una moto ma siamo in un negozio della Harley cos'è qui sotto ma quando abbiamo registrato con i termos abbiamo spaccato i culi ma qua si può farle i carri si ma forse no dai metto questo non metto le telecamere va va a orario magari fuori questo ma il robot i giubbotti io voglio andare lì sotto chiudo qui c'è un altro muro da chiudere anche da sopra possono entrare da sopra non possono entrare da sopra possono credo sfondare non hanno finestra eh stai fuori arrivo arrivo ti apro moro ti apro moro vieni dentro vieni qui non hanno trovato l'obiettivo dai passa 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 qui manca una barricata qua ragazzi dove aspetta la metto la metto subito metto subito ok ma dimmi qualche finestra che magari l'andavo a barricare e che ormai mi sa che è tardissimo su è utile andarci eh giuro aspetta vado a mettere una trappola ma non c'è niente qui eh qua ci sono i muri possono entrare da qualche parte dal muro da questo appare oh da dietro a me la puttana ma sono in tre loro eh peggio per loro che te lo dico ok ok la granate di azzer mi sento un po' camperone ma a parte che il gioco è quello tanto adesso vedi che sfondano al muretto e mi ammazza va bene lo sappiamo che l'hanno visto ancora la granate io gli sparo dentro i puchetti vediamo se ci prendo ah è sopra come non l'ho visto sopra sono io sopra ok forse ce n'era un altro dalla finestra ok ce n'è un altro aspetta che dispera dov'è? è dalla finestra qui c'è dalla porta qua si 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 ma mi ha ucciso ero già dentro dai con un colpo tra l'altro dov'era moro? è dietro dove hanno sfondato se esci a destra sopra lo vedo tantissimo il tipo lì e sparagli eh no ma è fuori dal mio muro antiproietile come fo? se vedi muoversi spara i pixel che si muovono gli ho rotto gli ho rotto lo vedi ma non puoi sparargli vieni qui e spara dentro quel buco e spara nel buco lo ci ho provato ma credo che sia c'è non è vero guarda c'è uno sopra ve l'ho spottato è sopra sopra però ah è proprio sopra proprio nel tetto era speriamo a cazzo sul soffitto bella idea è di legno sai che si può fare? mi hanno rotto la camera quindi non ve lo posso neanche più rispottare sono stato individuato ah c'è un robottino dentro ma come? hanno ucciso uno un attimo fa ok gatto tieni di mira un attimo questa parete che ho a fianco io si hanno tirato una granata da dove? ah mi hanno colpito è dalla buco campagna è dalla parete è ucciso sono morto non so da dove e non so dove da dove cazzo dobbiamo guardare? ah è dal buco della parete ancora? quindi sotto quello sotto quello sotto è arrivato il robottino non gli sparare non gli sparare non gli sparare scusa eh tanto è stato fermo tanto loro devono entrare quindi deve entrare per forza l'obiettivo è conteso quindi è lì da qualche parte come è conteso? è qui? è entrato è entrato da sotto è merda cazzo l'ho visto anche è sotto di te è sotto di te sì ma guardava proprio da lì ma che cazzo di sfiga guarda ma vaffanculo è nel buco lì d'ingresso porca troia eh sì eh no sbagliato sì bastava stare fermo bastava stare fermo eh no ma era conteso ma conteso no conteso vuol dire che siete tutti e due nello stesso ah stronzo pensavo che conteso comunque no stronzo io pensavo che comunque glielo stesse dando eh adesso cosa prendo? è sempre capitato che comunque soddisfa me le dà peccato stavolta me l'ha data la kill sì eh una volta avevo visto un servizio che ne parlavano nella classifica di giochi come Destiny o COD beh perché uno sparatutto pure questo però non no stanno parlando di Big Show ah scusa tra i migliori giocatori online stronzo io eh sì è vero ci sono tutte le truppe d'assalto di ogni paese ma non ci sono gli italiani io mi sono comprato il season pass per il secondo anno e speriamo che qualcuno ce lo metta quanto costa? 25 aspetta i salino cosa moro? metto gli alpini ci mettono bellissimo ammazza ci metteranno i nox che cantano probabilmente e i gis ma uno è morto amanda amanda gis no nox ma questa stanza qui è piccolissima questa è casa mia entiamo ho trovato una signora io fabbronix grazie mille ah sono sotto benvenuto nel club sono sotto sotto sono sotto sotto andiamo a subire guardie allora eccolo ecco lì aspetta che vado all'obiettivo l'obiettivo dov'è? 5 secondi merda 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 non c'è un cazzo non c'è un cazzo ben fatto ho trovato all'ultimo all'ultimo bravissimo moro ok nemico rivelato all'esterno eccolo lì e la madonna l'hai ucciso? no però l'ho colpito non è andato baby band lo sto sparando mamma mia che? da dove? ma sono a terra ma ho stato mutito sono morto eh sì li ha zammati mi hai fatto anche cagare in mano tra l'altro ma da dove? vabbè ma cosa succede? c'è quello fuori ma basta andare fuori da dietro il muretto mi ha ucciso ma a caso? aspetta aspetta ma non così tanto in alto sono sotto terra non poteva vedermi neanche a me non mi ha visto ha sparato a caso porca troia bravo non so che cazzo dirgli no dai ha sparato esattamente dove ero io ma cosa? anche a te allora sarà un mago non so occhio che qualcuno ha sparato alla finestra si è sopravvissuto no non mi ha colpito proprio però ha sparato proprio mentre stavo passando da lì avrà visto i piedi non lo so io faccio esplodere una porta tre due uno mi sono fatto un danno della madonna sto per morire complimenti vivissimi sono scemo sono scemo che devo fare sono ancora sotto però che mirino è che stai utilizzando? eh sbagliato quello sbagliato vabbè ma lui corre lui corre arriva e spara minchia non siamo più buoni non siamo più buoni no non siamo noi questo qui era una bestia ci ha uccisi tutti ci ha uccisi no guarda mi ha sparato due colpi e è andato via porca troia sì 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 ma è lo stesso che ha ucciso me è un po' difficile così non sono buono più ma non siamo noi il problema in questo momento eh un po' sì dai non è possibile che ogni robino riusciamo scusami ne riusciamo uno ogni dieci mi hanno visto ma scusa moro da dove ti sta sparando? stai attentissimo ma ti sta sparando con cosa? con un revolver? ma come? mi sta vedendo eccolo moro moro fanquilizzano fanquilizzano guarda che ancora in video non so non so dove è andata? però arrivano altri eh che paura sono lì bravissimo 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 ma sei ma tutti lì ma come è possibile? ma scusa stavi andando benissimo ma che non mi hanno individuato aiuto ma come ma che gambe vorrei ma che non va eh no vabbè ma le gambe no ma però non è possibile che tutti sono arrivati nello stesso punto ma cos'è sta roba? hai giusto ci sono moltissimi cheat in questo gioco quindi dei dubbi me li farei bene dai accettano per davvero quindi beh quello lì che mi ha ucciso a me ma non poteva vedermi ha sparato io non lontano la porta ha sparato a casa ma c'era quello lì che continuava a sparare a moro da attraverso la parete blindata non ho capito e cosa c'hanno come cheat? perchè a te hanno sparato attraverso si vedono l'attraverso la vedono attraverso cimbollato in questo gioco fa miracoli anche perchè quello lì correva e sparava a noi e poi andava via cioè era proprio una botte via non era puttana sono stati educatamente in fine indiana e Seymour ce l'avrebbe potuto fare però erano bastava tenere il primo tutto sul sinistro è veramente è solo che non sapevi quindi com'è possibile che sia successa quella cosa lì allora prima è andata bene qui aspetta che tra l'altro sai cosa mi è venuto in mente sai cosa mi è venuto in mente che prima non avevano trovato l'obiettivo ma hanno sfondato tutti la stanza giusta in una mappa enorme quindi un po' il detto mi viene hanno magari visto i muri rinforzati e ma il finito no non abbiamo rinforzato niente abbiamo messo soltanto la porta non ho tutti i muri carino e ma i muri rinforzati vieni da una parte che loro non potrebbero no vuol dire che devi azzeccare proprio la stanza però eh no sì ma li vedi da fuori ho capito però minchia comunque non l'hanno sì no l'hanno visto vado sopra io ok mi hanno già sparato e sono quasi morto e io non li vedo quindi ok sono morto perfetto avete visto che bei guanti che c'ho e che famo è resto qui da dove liezer è sempre dal buchino complimenti è arrivato l'occhio aspetta di là liezer è lì vedi dove sto puntando vedi dove sto puntando è sputato dietro di te Luke li ho visti fuori dalle finestre è morto non mi potevo più muovere stanno sfondando dietro di te dietro di te madonna eh vabbè l'hai ucciso? no uccidetelo a destra tua a destra tua Luke ma come perché non li vedete i nemici Luke aia è la vacca ah aspettate voi della chat se io ho l'FOV più alto tipo l'FOV a 90 o a 100 anche quando guardo la telecamera degli altri a 90 e a 100 perché magari potrebbe essere quello il problema che io vedo molto di più di come vede Luke che Luke non ha visto quello a destra perché io l'ho visto era alla destra dello schermo ma se Luke ha 70 di FOV magari è chiuso credo sia semplicemente il fatto che Luke giocando vede più quello che sta mirando mentre tu guardandolo e no ma correva ma no cambiamo la notte cambiamo eh aspetta non serve che esca solo no no hanno abbandonato vabbè penso di si carini dicono eh ho sparato veramente con una mira ogni volta vedo gente che non vede quello che vedo io e poi è sempre roba ai bordi dello schermo quindi effettivamente ti cambia l'FOV di tutti eh allora si perché vedo sempre gente che gli dico a destra a destra perché lo vedo a destra ma e quindi mettetevi a 90 all'FOV a sto punto che ridere che mi fai mettetevi a 90 simpatico manca 100 volendo anche di più humor mamma mia tutto inclinato io prendo sempre gli stessi perché non non ne ho ancora sbloccati in nuovi cosa succede l'FOV non credo che ti dia tantissimi vantaggi e beh il cazzo è come guardare attraverso una telecamera normale e un agro pro vedi vedi almeno 5-10 centimetri in più degli altri quindi altro che soprattutto e infatti io purtroppo il mirino lo vedo nel centro e molto più lontano degli altri è per quello anche che ho difficoltà con i mirini normali ma dovete formattare tutti io no no io ho già dato io sono stato il primo no io sono stato il primo mi compro un ssd da 6.000 euro adesso va bene da 64 mega mefis sta chiedendo a gabriel in base a cosa potresti bannarmi anche se gli stai sul cazzo questa è casa mia lui poi lo sgridiamo però lo può fare in teoria i momenti che gli stai gli stai nel cazzo per quello potrebbe bannarti per dire grazie mille e benvenuto nel clan del van fan club di motociclisti indonesiani con l'arley davidson .com ma chi è che parlava di stereotipi Antonio stai tranquillo magari in chat stereotipi non mi sembravano è per le forze speciali italiane perché qualcuno ha detto i vigili ma si era per dire ma è solo il biorischio qua ma quanta roba cazzo porca troia è un sacco da difendere qua di molto eh si ma ricate tutte le porte che potete aspetta lì che arrivo ma fa fanculo il drodo comunque si ci sono ci sono delle regole no no metti porca troia mi ha detto metti due arrivo l'uccidi laser chiudo dentro oh scusatemi porca troia karim eh perché ho barricato i muri perché ho faccio una cosa o l'altra però siamo in una cosa fatta di calco un gesso si no è tutto è un piccolo non l'ho messo non l'ho messo porca troia eh non ho finito di chiudere laser eh io sto fuori dove sono le due bombe una qui l'altra no no chiudo io ah no non è il biorischio ok è il biorischio è il biorischio non so dove mettermi un casino sta mappa eh hanno scondato guarda karim no perché qua ci sono due pareti che si possono aprire moro ma che cazzo ce ne frega a noi va bene allora io mi metto invece qui sotto aspetta zitto sono nostre telecamere no no e c'è uno che entra luca a sinistra di te dato davanti lì stanno sfondando ho distrutto un drone mi ha dato un sacco di punti è per la trappola è per la trappola ottimo ottimo di ezzaro ottimo moro hanno sfondato dove sono io che paura dai c'è uno lì l'ho preso occhio stanno trapanando in maniera eccessiva sono di capo porca troia avevo iniziato a sparare ma non è Lilies non l'ho neanche preso tra l'altro porca troia ero così esposto figa oh mamma mia come l'ho ucciso troppo porca troia ero sicuro scusso ero nascostissimo in una sega invece l'ho ucciso un altro l'ho ucciso ero nascosto da tre ore lì porca troia è qua è lì Lilies non l'avevi uccisa aspetta Lilies ah no è ancora viva aspetta Lilies lo può stordire qualcuno dov'è è dentro lì porca troia Kerim che paura ah dietro Kerim stai giù ah è qui eccolo l'ho visto guarda te lo stordisco no ma ha rotto il drone che parli però è lì dietro proprio lì dietro Kerim stai attento perché non era lì dentro ha sfondato qui è da un'altra parte l'ho preso ok ah 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 bitch sono molto difficili le prospettive infatti io adesso sono morto perché pensavo di essere protettissimo a parte la faccia e non era vero un cazzo ero fuori con metà corpo eh sì non si capisce bene quella roba lì infatti muoio più per quello che per altri motivi Tiger zio pensa se avessero chiamato Resident Evil Biorischio pensa eh sì pensa se l'avessero fatto è vero che Biohazard eh sì sarebbe Biorischio porca troia Biorischio 4 mettere in sicuro il Resident Evil non è più Resident Evil dall'uno praticamente perché perché non è più la residenza del diavolo ma ah il luogo dici sì nel senso non è più Resident Evil beh tecnicamente Resident Evil è la umbrella quindi volendo la Resident Evil è l'umbrella no è intesa come l'umbrella corporation ma sei sicuro secondo me Resident Evil era la casa del primo anche secondo me però già dal primo la trama andava a buttare in scientifico no c'è la trama secondo me secondo me è una rovina quella lì a me dispiace perché avrei lasciato di un hazard no 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 io parlo di trama di Resident Evil con l'umbrella e tutto quanto io avrei lasciato lo hazard scusate la corporazione ombrello l'umbrello corporation l'umbrello con il braccio e vi ha visto in figura se tu che fai non farlo ah UE777 ha abbandonato la partita mi spiace per Bob Ross e Beastmaster Beastmaster io vado da sopra chi vuole venire arrivo io io ho le bombe da mettere no allora aspetta vieni carino andiamo dritti di qua noi vieni Luke e c'hai Moro tu ah è Moro però vieni sopra guarda cane due perché mai dobbiamo andare sopra ma tu sei più bello cosa facciamo cosa facciamo aspetta no no fermo levati mirate uno da un angolo uno dall'altro pronti dai vai niente anche quella porta lì sei pronto allora aspettate io metto le bombe aspetta che li ho rotto aspetta che stanno sfondando dietro no è l'iezza ah c'è la telecamera fuori mi sa ma l'ho rotta no ce n'è un'altra aspetta è quella lì è quella lì rotta ok pronto no aspetta aspetta che avanzo un attimo vai ah c'è Moro lì niente ma è molto distante Moro rispetto a noi allora aspetta fermo 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 cosa c'è niente ah dei server no non vedo un ca ok che cazzo di stanzo ho aperto cos'è quella roba lì allora qui c'è uno scuro andiamo da sopra andiamo da sopra aspetta 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 allora adesso cercando le scale ma non le trovo li voglio rompere i coglioni ecco qua uno lì ma le scale? allora io li apro un po' ma carim ho fatto un giro tutto io non c'è nessuno e allora andiamo andiamo da sopra Luke sta sparando sono stati individuato come andiamo stato individuato permesso permesso c'è la telecamera da qualche parte porca puttana fa ridere quando vorrò no non ne ho più ma merda siamo qua io sopra ahia che dolore granata ragazzi e la me l'ho buttata al leader io le sto buttando io aspettate difendetemi mandorò un bottino ma c'è nessuno panino ma che cazzo gatto sfondo da sopra aspetta aspetta ve li sto taggando un attimmino ma puttana dove è sdraiato quello pensato fosse morto che porca ottimo bravo allora aspetta 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 che non ne vedo altre aspetta che ce n'è uno nascostissimo aspettate che vi dico dove è eccola eccola lì tu spottata spottata allora ve la continuo a spottare finché non l'ammazzate mi hanno ammazzato lei ecco attento stai attento attività all'immunica tornate a occuparvi sull'immunità non è un'altra giusta nooo stiamo giusta vicenda stiamo giusta vicenda stiamo giusta vicenda ah no io sono ancora io sono a terra non sono morto uuuu bitch che belle ste kill vaffanculo eh sì dovrei cambiare mirino infatti è un problema l'hacog mi consigliate eh sì o l'hacog ma in realtà tutti tranne quello normale no io ho messo quello lì con il triangolino verde sì lo devo mettere l'hacog perché se no non trovo un cazzo io io ho messo quello con il triangolino verde però non sono soddisfatto pensavo che fosse un giusto compromesso tra quello base e uno un po' più preciso che faccende ficcano questa sera che domanda un po' particolare un po' più bello qua non è voluta inverno nucleare 4 ah fallout 4 sì ma non è inverno nucleare fallout fallout è la colazione dal cero dopo il posione no il fallout anche semplicemente vuol dire il dopo casino esatto sì no tecnicamente quella particelle di nucleare aspetta Moro chiudo io lì ma qui non no non chiudere no vabbè c'è i giubbotti ma coglione ma te sei scemo giubbotti ho messo i giubbotti sul robottino ma cretino ma chi è giubbotti porca troia ti sparo nel culo abbiamo sparato Moro anche porca puttana mi sto fuori e non hai neanche chiuso il muro ma ho messo i giubbotti per forza stavo avanti non tu c'è quel chiettino mi spara tu scemo robottino di merda che ce lo dite sappiamo fallout è l'esplosione nucleare infatti fallout dovrebbe essere l'esplosione ragazzi no non per forza vuol dire tante cose in italiano cioè in inglese vuol dire tante cose dove? qui non so ma io chiudo qui gatto no non c'è bisogno cioè si dai chiudo non sai mai magari si distraggono porta barricata dai no mi puoi scavalcare bello sento stanno sfondando Luke ho sentito che ha messo le cariche alla termite da qualche parte vado ad appropriarsi aspettivo con il teso è qui è qui è qui puttana Luke all'istante sei morto io e il gatto sanno fuori opprimi le palle sono dietro di te il gatto stanno sfondando un'altra parete si aspetta qui ci vado così non vedo nessuno io merda ha tirato sullo scuro ok ma dai ma dai tiratemi su per piacere che è ancora viva anche lei uccidetela uccidetela tiratemi ma che sono ancora in tre eh e tiratemi ok grazie ah le bombe da sopra da sopra vado a vedere venite voi col mitra vado sopra aspetta che io vado col drone quasi ma non dare col drone che ci serve fuoco vi richiedo qui che non si sa mai eh lo sapevo hanno sfondato sopra ci sei lì anche dietro dietro di noi no ci sono uno sopra eh sì però comunque ma merda da sopra mi possono sparare maro era lì cazzo l'ho vista solo che con il revolver non riesco merda l'ho mancato tantissimo è lì dentro dai l'ho anche sparato io sento che è lì però ok a terra ultimo staccato e credo sia qui sotto Karim sotto di noi aspetta che guardo col drone con il drone sono sceso da voi ragazzi ah e guardala Ghezzara FK dove? eh del Karim c'era siamo stati bravissimi eh questa si siamo andati su in due l'abbiamo ucciso guardala lì cosa faceva agia va in bocca agia gatto hai mirato malissimo forse dovevi metterti dritto una volta vista come? eh ero inclinato con la testa e ho pensato a spararle più che a tirarmi su ah ok visto che è un che faccia eh lo so ma il fistofenismo a faccare eh lo sappiamo solo che minchia non siamo buonissimi anche perché non conosciamo le mappe così bene da capire da dove io conosco bene un paio io ho una mappa che conosco abbastanza bene no ma lui dice proprio dall'inizio correre in giro a vedere dove sono eh ho capito cosa facciamo per quella lì si usa carveira tipo che però come sedia cos'è? è uno scritto sedia si misturava nell'angolino dai vado in una van scoperta io che tanto c'ho allora prendi carveira prendi carveira non ce l'ho carveira sei stronzo che sei e non vinciamo mai non ho mai punti mi sta sul cazzo comunque non posso cambiare il minino da qui eh vaffanculo cioè posso usare solo i minini che ho già perché? eh perché hai comprato solo quelli che puoi comprare gli altri ho capito perché non me lo fa comprare in game? eh è troppo facile perché? vaffanculo se dovete farmare punti fate le cacce ai terroristi ah no mi piace farli online solo che non giochiamo mai per i fatti nostri però quando giochiamo perdiamo e quando giochiamo in live siamo uno più distratto abbiamo spaccato i culi adesso mi vedete l'area si ma siamo sempre qui no le bombe no le bombe no le bombe no le bombe fatti due da una parte e due dall'altra io ricognizzo tiè vi metto chiudo dentro dammi i cosi che vi chiudo vi chiudo dentro fanciullini che rimano dentro o fuori? eh ne vado fuori aspetta vado a prenderli i giubbotto sono stato individuato? ma bastardo al pelo no è morto? è morto? eh ma da qua dove cazzo entra? yuk prendi i giubbotto che poi chiudo tutto vada? ma io devo mettere le telecamere fate quello che voglio fare poi vi chiudo dentro mancano 10 secondi eh ma qui posso entrare da ovunque eh ragazzi chiudo dentro eh o stiamo fuori tutti robottino ma non mi chiudere fuori chi ha te? c'è tutti dentro quella lì non c'è nessuno non c'è nessuno no vai ah ma c'è un'altra porta cretino arriccata pronta e no dico c'è un'altra porta Luke dentro o fuori? merda hanno sfondato questo tirando sulla roba granata no è la fine non vedo morirò l'ho visto cazzo l'ho visto l'ho visto l'ho visto merda ok e quante questo l'ho ucciso proteggetela no ok ho ucciso anche l'altro eh vabbè allora li uccisi tutti aiuto amici ne ho colpito uno ne ho colpito uno più volte ah questo c'è il posto bastardo di merda mi ha colpito ok l'ho ucciso dove cazzo mi hanno sparato dove cazzo mi hanno sparato merda mi ha visto sono morto dove sei? eh lo stavo cercando era lì da dove hanno sparato è gatto la stanza porca troglia bravissi io vedo della polvere è sopra è sopra aiuto questo ci fa fuori tutti alla fine è un campionissimo mi sono anche spaventato ragazzi chiudetemi dentro si infatti fai un culo tanto deve venire Luke chiudeti dentro ma cosa lancia il drone che dà la scossa addirittura c'è? che pane ti rompe pure i coglioni bravo moro bravo mi sta uccidendo così e se ti uccide è colpita 10 allora eh ma scusa ma non mi eh che cazzo ma ha tolto 50 di vita comunque e ti ha colpito 5 volte eccolo mi sta sparando da fuori a me si è stato dentro 30 secondi deve entrare lui è stato dentro si cioè stai lì dai moro come è possibile come è possibile come è possibile come no è il Luke dall'altra parte si mette la bomba eh sì ma scusa quel buco non c'era 15 secondi ti giuro quel buco non c'era ma do ma do minchia come è andato giù però brutto eh guarda come è scivolata ha fatto è un altro è un altro shooter vaffanculo porca troia comunque non ci ho preso un sacco bravissimo faccio qualcosa di differente l'ansia palpabile proprio va bene questo gioco in LAN cambia completamente non so come non l'avete ancora spaccato il monitor e beh sì in LAN e in LAN non c'è quel problema lì esatto esatto ci saranno in LAN più minimi un po' una però l'altra l'altra bravissimi gemmer sanno vedo tutti i nemici tra l'altro buono ma visto oddio hanno sfondato una parete mi hanno rotto mi hanno rotto no mi hanno rotto hanno rotto drop shotter di modern warfare 2 io ero un drop shotter della madonna uno stronzo come si deve eh prenderne nei LAN nei LAN hanno chiuso lì fanno i LAN da parti che sfiga nei locali dal pelissimo sì sì allora posso andare su? cazzo va bene allora io cosa c'ho hanno già che siamo qui gatti io te lo dico sì moro la signorina rompe la l'anti la giapponese rompe l'antiproiettile ho ucciso uno con le granate lo scopriremo bravo io tutto è la termite Karim pronto Luke occhio no me l'ascolta che paura la mia non funzionava ah forse ci ha messo il il c'è qualcosa orcatore non riesco a prenderlo ok non c'è più nessuno mi sa in questa stanza Karim Karim vieni qui vieni a piazzare il disinnescatore io e i morti disinnescatore? sei tu sei sicuro? vai lì vai lì a là dai ti copriamo dentro io la stanza eh ma Karim c'è il disinnescatore però via tutti via tutti sei giù sei giù bene bene ah c'è l'altro qua ok yeah yeah disinnescatore e l'uccisioni super testa yeah yeah lan si intende per la stessa rete beh certo con lo stesso filo collegato eravamo tutti vivi abbiamo finito una partita flawless che bello l'hardless no però non posso tenere ok avete visto? le tattiche quelle intelligenti oh mamma mia signore siamo così vecchi allo sì ah va bene difendete le bombe offeso difendiamo le bombe bravo lascio qui un trauma perché mi spiace a me da fastidio ma è che parezza la polizione di prima che il cinese qui abbia solo solo il robottino che per carità fa male della madonna ma non non ha nient'altro perché mi sono ho trovato una bomba a merda all'assalto io io riconizzo no vedendo come giocano gli stai riconizzo no gatto apri qua vabbè apri siamo a dieci di fuori ahia di frame siamo a cinque gli è andato a merda per un attimo io mi metto qua la squadra d'attacco ha trovato una bomba prepararsi all'azione nemica che faccio gli è messo gli è messi poco fuori no dai pensa non correre che si sente ma scusa ma il robottino adesso c'è lo schermo verde ce l'aveva anche prima quello volante quello volante sì sento correre tantissimo non mi ricordo come che si faceva l'attacco col click hanno sfondato da me hanno sfondato da me quando è rosso puoi fare ok hanno sfondato da te Karim e mi hanno l'ho ucciso è quello che ho fortificato qua Karim è proprio lì da te ok l'ho ucciso eh io lo stavo attirando il fuoco bravissimi che male che paura vado via scorrendo correggio cazzo che spavento stanno entrando da me è morto il lizard no porca troia no il lizard merda però ho sparato merda ma è andato troppo in alto ma che paura ok che mi individua quante robe sta lanciando qui muoio eh son morto son da me son da me oh andate palle sto arrivando eh son di là Luke aspetta che era fuori dalla finestra fuori dalla finestra ok e non vedo niente porca troia non vedo niente ma l'hanno messo lì da me merda ma i giubbotti antiproietti non mi fanno entrare ecco ma è fisica la borsa si cazzo vuol dire andate però mamma mia niente vabbè ho capito ma perché non si alza aiuto si è bloccato eh vabbè ma dove cazzo era va bene vai disinnescarla ma Karim da solo no oddio ma bisogna essere rimasto l'ultimo no cazzo no cazzo no c'è un'altra il giù è valita si merda ero partito per quello nelle frasche era dentro una una pianta ma siete andati tutti in giro erano tutti lì eh ma io ne uccisi tre però eh eh no erano ancora in tre no ah no ne uccisi due io però ne uccisi due io ho ucciso quello barricà bardato e e l'altro eh lo so ma perché da me lì c'erano le finestre c'erano due porte dall'esterno quindi cosa sarebbe la chat course gatto hai fatto il video di course? no ah ok perché? ah qualcuno chiedeva cos'è no la chat di course comunque è una chat come team speak o skype dove stiamo radunando tutti i nostri funz si è un gruppo per è un gruppo per chat e anche chat vocale volendo esatto potete farvi i vostri gruppetti giocare ai giochi che volete ci sono diverse stanze esatto ci sono le stanze apposta vocali e non vocali anche quella del sesso se volete vi piace sì ma non viene utilizzata molto eh ma perché siamo nerd gatto si sa che il nerd non scopa ci fa ci fa proprio schifo esatto tanto quello li carica allora io combatto contro sandgast dai siamo partiti dobbiamo individuare una bomba dobbiamo individuare una bomba come l'ha detto affaticato ma io ero col robottino perché in teoria il robottino era utile perché non sono mai riuscito a vedere nessuno per via del fumo è sotto? si ho detto ho detto che era sotto le due bombe sono terribili però mamma mia no sono due è troppo difficile è infatti almeno fai che le devono disinnescare tutte e due appunto è quello che diciamo sempre l'ho trovata allora la puttana che paura è morto uno sono in tre poracci dici che mi vedono anche perché ci ah no quello che aveva fatto tante kill è andato via allora scondiamo una porta e entriamo tutti e cinque e vai così con un caricatore si fa fuori tutti sfondo io gli sblocco l'obiettivo Hitler perché Hitler? perché il laser? sono tor puttana sono torbio vedi già il nostro vantaggio è praticamente finito niente è fatta abbiamo perso ok cazzo l'ho ucciso uno mamma mia che danno che m'ha fatto però ma non è rimasto la sua madre ah giusto perché intanto aspetta le zarrompi quello l'ho fatto io adesso io faccio ok hanno aperto una porta per caso non è una buona posizione vai dici che non sfonda quello questo qui si adesso li facciamo andare tutti e due guarda un po' posso darne un altro andiamo di qua fatta dai ma perché si è sfondato alla finestra un abbandonato ma dai è rimasto solo foraggio ma lui ci crede magari è sopra e ora mi uccide guarda ma no abbandonato non c'è nessuno qui è stato uomo 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 fermi tutti fermi tutti lizer non entrare bravissimo ok fortuna che sei impratto eh per un perro volevo mettere le granate eh stava crevelato tantissimo e non ti ho preso una volta guarda le granate si a mo' vinto e bè orca miseria siamo proprio forti comunque in questo gioco diciamo che sono scarsi ma in realtà cinque contro uno ci stavamo perdendo porca troia basta così sono le dieci e sette noi adesso dobbiamo guardarci i porno Karim col tre due uno li registriamo il mio video tra l'altro registriamo domani sul canale vedrete cos'è che guardiamo oggi? eh domani sul canale appunto dicevo delle live ci sarà un video podcast però dove guardiamo un porno tutti assieme quelli delle compilation di quelli da tre quattro ore ci sono delle compilation di porno? non si chiamano compilation si chiamano cumpilation e non sto scherzando pensa mi piace che lui lo sappia comunque fai finta fai finta va bene buona serata a tutti ragazzi grazie mille per donazioni super e super per essere stati qui a vedermi fare delle figure di merda perché non ho fatto parecchie questa sera e beh è vero fai cagare gatto non mi posso nascondere è detto che metti le mani avanti te lo dico comunque fai cagare non l'ho messa avanti l'ho messa indietro ormai l'ho fatta per pulire ti dice beh grazie anche ai termosifoni a parte Moro che ci hanno fatto compagnia questa sera nello parlare della gente non c'è di che grazie in otto grazie senza in otto la live mamma mia come facevi madonna questo è stato preciso e volevo aggiungere anche un'altra cosa pulito pulito Grazie.